Ha preso il via sabato scorso l'edizione 2012 del Racconto il Film, il festival che unisce cinema, letteratura e sociale attraverso un programma di 34 giornate, compreso l'evento speciale che chiudereà il festival il 24 agosto. La rassegna organizzata dalla cooperativa sociale I Bambini di Truffò e da Michele Campanella è nata da un'idea del direttore artistico Giancarlo Visitilli e dalla condirettora Anna Maria Minuno e si è aperta con un omaggio a Francesco Laudadio che prima di essere sceneggiatore e regista cinematografico è stato uno studioso. Responsabile del lavoro nelle campagne per la federazione del PC di Gioia del Colle, raccontò in uno scritto recuperato dopo la sua morte e pubblicato per dovere verso tutti, come scrive Andrea Camilleri nella sua prefazione, la lotta di classe nel sud Italia, la ribellione sincera dei caffoni, l'autenticità di un universo umano e politico ormai scomparso. Il libro, scrivano, inganna morte, è stato presentato dalla direttora di Antenna Sud, Anna Maria Ferretti, con il commento del presidente della regione Puglia, Nicchi Vendola, dell'assessora regionale alla cultura e al Mediterraneo, Silvia Godelli, del maestro Ugo Gregoretti e del fratello di Francesco Laudadio Felice, che commosso ha presentato il documentario firmato da Orsetta Gregoretti, le parole di Francesco. Scrivano, inganna morte, che io ho trovato fra le sue carte, qualche mese dopo, non lo savo entrare in casa sua a Roma, l'ho trovato e ero molto felice, perché è un libro che sembrava avesse bruciato, l'aveva bruciato, ma si era scordato una copia, quella l'ho trovata, allora si battevano macchina le copie, era una copia molto malmessa, su carta venina addirittura, che abbiamo ricostruito e pubblicato da Sellerio con una bellissima introduzione di Andrea Camilleri. Francesco Laudadio era uno dei grandi organizzatori dei primi movimenti studenteschi, quelli che conquistarono per esempio i decreti delegati per il governo democratico della scuola e poi lui fu un figlio del 68, un'intelligenza cristallina, cumminata, una grande passione civile, politica, la passione che trasferì in questo luogo il cinema, che lo colpiva proprio perché gli consentiva di mettere insieme microscopio e telescopio sullo scorrere della vita. È una storia che oggi ha un senso speciale, i momenti in cui ricostruire pensiero critico, memoria, diventa di particolare rilievo, ma soprattutto con la capacità di guardare in avanti.